Un primato nella classifica di altro consumo per il Banco Fiorentino emerge dalla rilevazione stilata dall'organizzazione che da 50 anni tutela i cittadini e i consumatori, con informazioni classifiche sulla qualità di molte aziende, servizi e prodotti. Tra questi vengono testate anche le banche operanti in Italia. Ebbene, nella classifica 2023, l'istituto, nato dalla fusione di diverse realtà territoriali, ottiene il massimo punteggio 5 stelle e si piazza nona nella classifica generale, tra oltre 240 istituti. La banca è solida in salute, ha spiegato il direttore generale Davide Menetti, e lo dimostrano anche i dati presentati nel nostro ultimo bilancio, chiuso con un utile netto di quasi 54 milioni di euro e una raccolta totale da clientela pari a 1 miliardo e 688 milioni. I parametri di valutazione con cui altro consumo ha stilato la classifica sono piuttosto severi e tengono conto in particolare del cosiddetto Texas Ratio, un indicatore calcolato come rapporto tra i crediti marci e la somma di due elementi, il patrimonio e gli accantonamenti sui crediti effettuati in passato. Per ottenere le 5 stelle in classifica, insomma, un istituto deve avere un totale di crediti cosiddetti marci, più basso, dei mezzi che la società ha a disposizione per far fronte al loro eventuale azziramento. Questa capacità di copertura per il Banco Fiorentino è dell'81% ed è frutto, dice ancora Menetti, della politica di derisking da sempre seguita dall'istituto. Il dato della classifica di altro consumo, a proseguito, rappresenta un'ulteriore conferma della qualità del nostro lavoro che ci fa piacere condividere con soci e clienti, poiché il nostro ruolo di cooperativa di credito locale è quello di produrre utile al fine di rafforzare il patrimonio e poter così supportare le comunità del territorio di appartenenza. In generale, il report di altro consumo mostra ottimi risultati soprattutto per le banche di credito cooperativo in molte presenti nella parte alta della classifica.